Luciano è amico di Antonio ma tutti lo chiamano Lucio Luciano ha deciso che il mondo non esiste ma lui fa piacere che ci sia è un animale a mangiare le briciole solo quando sente fame gli ho dato un bacio dice che sa di fiori e che in inverno non ce ne sono mai siamo amanti da un giorno e ci ameremo faremo cose che ci annullano e se i suoi giochi li bruciano nella fornace cenere alla cenere polvere su polvere e se nei sogni riesce a vedere la luce la disegnerà questo non si sa l'urciano ha sfiorato l'acqua di un lago perché voleva lavarsi le mani così gli ho chiesto se almeno l'acqua esiste ma lui mi ha risposto che non lo sa è un animale con un viso con un viso da principiante vede cose che lo annullano e se i suoi giochi li bruciano nella fornace c'è cenere alla cenere e polvere su polvere e se nei sogni riesce a vedere la luce la disegnerà la disegnerà questo non si sa la disegnerà è un eser il i in 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 Grazie a tutti.